Sono 13 gli istituti comprensivi e 58 i plessi scolastici di competenza dell'amministrazione comunale di Salerno al lavoro in questione attraverso l'assessore all'istruzione Eva Avossa per riorganizzare al meglio la ripresa delle lezioni in presenza dal 14 settembre. Non si è mai praticamente fermato dal 24 giugno il lavoro del comune di Salerno. Il maggior problema è reperire spazi come per esempio nuovi locali per la scuola Matteo Mari che sembrerebbero essere stati messi a disposizione dalla Camera di Commercio con un appartamento. Le maggiori difficoltà invece dai cambi continui di direzione dello stesso ministero. Ed è proprio dal 24 giugno, ossia da quando sono uscite le linee guida, che stiamo rincorrendo le novità. Come non sono da prendere in considerazione secondo me i teatri o altre cose che sono state proposte, se non per pochissimo tempo. Cioè io posso portare dei bambini in un teatro a stare lì per un paio d'ore, per un'attività extrascolastica o quantomeno di arricchimento del... Della riorganizzazione forse la preoccupa l'emergenza sanitaria che è ancora in corso? Assolutamente sì, stiamo vedendo che purtroppo i contagi aumentano e chiaramente siamo sempre a dire, siamo attenti. Con un grande senso di responsabilità il problema c'è e quindi stiamo vedendo che al di là di ogni polemica la verità è questa. Cioè purtroppo si sta abbassando anche l'età dei contagiati, stiamo sentendo anche dei bambini. Questo ovviamente preoccupa tutti quanti, quindi io credo che però abbiamo fatto tanti sacrifici. Siamo stati chiusi in casa per tanto tempo, forse questo ha aiutato sicuramente i giovani, cioè che non fosse così bassa l'età. Ora io capisco bene, abbiamo tutti voglia di uscire dopo tanto tempo, però poi di fronte a certe scene che abbiamo visto nei mesi scorsi, insomma bisogna fare una riflessione. Io credo che la scuola debba riaprire ed è responsabilità di tutti quanti noi, al di là degli spazi, cioè se purtroppo ci saranno di nuovo dei contagiati è chiaro che ci sarà qualche problema.